Ciao a tutti, questo video è indirizzato a chi si avvicina a Bluff Title per rispondere a qualche dubbio. Ho visto che alcuni utenti che hanno acquistato da poco Bluff Title si rivolgono alla community per alcune precisazioni. In particolar modo, riferito a questa animazione, ma si riscontra questa cosa in qualsiasi layer con del testo, ad esempio, vedete abbiamo un livello di testo dove è scritta questa frase. Questa animazione la potete trovare, come vedete, negli show in PhysX Bouncer 1 perché sono delle scritte che rinvalzano, comunque non ha nessuna importanza. Se guardate qui, c'è scritto allineamento verticale centro e qui non ci piove perché vediamo la scritta centrale in mezzo allo schermo e riconosciamo questo comando. Però se spostiamo allineamento verticale basso vediamo in realtà che la scritta si alza e viceversa se scriviamo allineamento verticale alto vediamo che la scritta si abbassa. Giustamente qualcuno ha detto perché se scrivo allineamento verticale alto in realtà la scritta va giù e se scrivo allineamento verticale basso la scritta va su? Questa traduzione è contraria, adesso non era riferito all'italiano perché se voi spostate le opzioni sulla lingua inglese troverete esattamente la stessa cosa. Quindi verticale alineamento center, top, vedete che è andato giù in realtà e bottom in realtà va su. Come mai questa cosa? Cosa significa no? È stata sbagliata? Questo comando è stato sbagliato? Assolutamente no. In realtà questo comando si riferisce a qualcosa che noi non stiamo vedendo. E per cui magari a chi si avvicina appunto per le prime volte a brush title può risultare una cosa un po' strana. Se premete F2 vedrete le coordinate del mondo. Ci sono le coordinate qui X, Y e Z, questa griglia di allineamento che ci serve. E vediamo questi assi nascosti un po' adesso qua dietro centrali. Cosa sono? Questo qua è il famoso punto di ancoraggio o pivot point o punto di rotazione. Questo punto di rotazione normalmente anche potete trovarlo nella grafica 3D negli oggetti tridimensionali. E' posto al centro della massa dell'oggetto. Perché? Perché se noi compiamo delle rotazioni. La rotazione di tutte queste scritte del layer ruotano appunto attorno come vedete a quel centro. Adesso a zero. Quindi questa scritta che trovate qua non è riferita al layer ma è riferita al punto di ancoraggio. Infatti vediamo se faccio basso. Vedete è andato il punto di ancoraggio in basso e di conseguenza restando lui centrale la scritta va su. Poteva essere la stessa cosa se la scritta fosse restata in centro esattamente qui. e si fosse spostato solo il punto. Soltanto che in questa maniera il comando non era visibile. Cioè se eravate così non avreste notato nessuna differenza. Questo perché viene fatto? Perché ora al punto di posizione zero del nostro mondo che vedete è questo quello che corrisponde a quest'asse centrale corrisponde alla base della nostra scritta. Così viceversa se facciamo allineamento in alto il punto zero un piano zero sul mondo corrisponde alla parte alta della scritta. e vi faccio notare che se facciamo una rotazione adesso l'ho messo sulla parte bassa tutta la scritta ruoterà e farà perno lì. A cosa può essere utile? Beh può essere utile intanto come vedete a far ruotare la scritta in quel punto e quindi avere una rotazione diversa. E poi ha un'altra cosa perché qualcuno potrebbe dirmi sì ma io qui ho un comando punto di rotazione che mi permette di portare questo punto vedete dove voglio ad esempio qui e quindi se io faccio ruotare la scritta vedete che in realtà è questo punto di rotazione anche se ora vedete che gli assi del mondo finiscono qui quindi se io posiziono a zero vedete che la base quindi è questa la massa dell'oggetto corrisponde sempre a zero ora vi faccio vedere in realtà a cosa serve questa cosa sia con le scritte layer che con gli oggetti 3D serve a questo e andiamo a inserire un qualsiasi piano mettiamo questo lo rendiamo solido e lo ruotiamo esattamente di 90 gradi diventerà un piano alziamo un pochino la telecamera per non vedere una riga ma vedere un piano e questa scritta qui la andiamo a posizionare in fondo dov'è il nostro piano ecco se io mi abbasso infatti vedete che entro dentro serve questa scritta adesso vado su rotazione a zero tutto che se io pongo il testo come ho detto prima in posizione y zero come vedete ora la scritta si è appoggiata al piano così sono sicuro se devo creare più oggetti appoggiati a qualcosa che ovviamente devono trovarsi in posizione zero questi layer automaticamente vedete che questo penetra dentro perché a questo punto centrale adesso coloriamo un attimo diversamente questa scritta la facciamo chiara gialla andiamo a posizionare questo allineamento in basso e automaticamente la nostra scritta appoggia sul piano ecco vedete che questa cosa quindi ci aiuterà ad allineare meglio i nostri oggetti quindi può esserci un pochino di differenza a seconda del piano sottostante se esattamente a zero come in nostro caso uno spessore eccetera però è molto più facile che allineare così che avere una cosa centrale che ci fa a zero in posizione zero sulla se y ci fa cadere il nostro oggetto a metà del piano queste sono piccole sfumature di bluff title poi premendo F12 ovviamente mandate via le coordinate che è bene conoscere sin dall'inizio per ritrovarci meglio a lavorare nelle nostre animazioni vi ringrazio per la visione di questo video vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati ciao